musica ok ragazzi andiamo a noi sperando che sia che ci sia vicenda alla fine ma questa musica non è che mi piaccia tanto se questa tarda notte luce spenta e volume al massimo si che fa cagare ah mi sono dimenticato a posare il coso no lo lasciamo chiuso quanta violenza ok grande ci vediamo con questa di qua no no dobbiamo scendere mi sento un po' su dark souls ti pareva che qua c'era qualcosa da prendere ah non c'è un cavolo non c'è un po' su 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 Mamma! ok ok oh dio paura oh dio questo è tristissimo oddio quanto è triste la storia dei trevor dio mio mi piace un po' il cuore allora qua cosa c'è? ecco ce ne sono tre quindi io dovevo dovrei andare a prendere si dovrei andare indietro prendere queste cose dovrei prendere anche il di ecco la scatola a me mi serve a me quello devo prendere tre cose non so se portarmi il disco MO però in tal caso ragazzi taglio il video e lo ripaccio ci vediamo poi al punto X allora 1 2 mi sa non mi sono sbagliato devo avere un terzo no mi sa che non c'è no vado a questo punto ci vediamo ci dovrebbero essere queste due no 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 Allora, dovrebbe essere solamente queste due in teoria. Ok lupo, e poi del leone, c'è del leone. Ok lupo, ma dall'altra parte. No, adesso siamo qua. Ok lupo. Adesso tu la prendi? Ok. 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 Dove è il Revolver? Non so perché ma... Boss Pike? Non ce la posso, aspetta allora ok Aspetta che ho un'idea allora Fammi un po' organizzare le cose Dammi la piaschetta E uccidiamo un po' di zombie e Ripruciamoci Se non sbaglio siamo quasi alla fine Non so perché Aspetta che combina con questa Aspetta che piavo voglio vedere è bruciato Ok 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 voglio vedere se io ho un'altra Erba da poter sfruttare No Però quella con due me la porto dietro Piaschetta ne ho Ne ho due utilizzi E sai che forse è più aumentata difficoltà Più hai meno utilizzi di Piaschetta Si qua se non sbaglio Ma forse è chiusa E qua cosa c'è? No Poi non è che sappiamo tutti iscriviti a me No Dal caso gli andiamo indietro Ok 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 Fai Prima di utilizzare qua io mi dovevi andare a liberare un po' No ora fai un po' esplorare le stanze ragazzoli oddio sembrano tipo il regenerados aspetta prima di prendere qua determinate cose a Ok aspettate che devo andarmi un po' liberare Perché poi i due dischi M.O. me li voglio portare pure dietro Allora facciamo una cosa invece di portarmi le airbette Allora facciamo una cosa invece Vabbè poi quelle munizioni del magnum Li prendiamo dopo che abbiamo terminato Perché non so quando ci servono se devo essere onestri Allora facciamo una cosa invece 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 Grazie a tutti. 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 Ah, quella la prendo dopo. ok aspetta ah è clinson head, non gli skinhead, vabbè clinson ah ok è quella che abbiamo visto allora sono ah allora deve essere tipo così ecco, no scambio sir ok poi mi seguo una password per quella forse è questa vabbè andiamo a vedere qual è ok però aspettate io voglio un po' liberarmi vabbè sono i crimson head io li ho chiamati tipo gli skinhead o head head qualcosa del genere se invece sono i crimson o i simpson head o i simpson head vabbè me lo consiglio non abbiamo più spazio mi sa che dobbiamo fare la copia uno dell'altro ok gli sospetti vabbè 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 Grazie a tutti Ok, ok Va bene Ok, si sperenta che tutto vada Oh, bello si Ah Grazie a tutti Grazie a tutti Se l'avessi adesso seriamente Esploderebbe Grazie a tutti Grazie a tutti Di sicuro uno ci servirà per dopo Secondo me Aspetta è qua Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Devo prendere anche l'altra Ah però qua Oh Ok Aspetta è Allora Ok Vabbè Allora Ragazzi No questo non ci serve No Oddio Allora 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 Allora